ciao a tutti amici e amiche di quinta dimensione letture bentornati sul mio canale e vi mando sapete come sempre un grandissimo abbraccio oggi vi presento una nuova creazione una cosa creata da me un altro mazzo di oracoli che si vanno ad aggiungere ai tre mazzi di oracoli precedenti che ho creato qualche mese fa allora per chi li conosce anzi approfitto ringrazio tutti quelli che me l'hanno chiesti e che le hanno acquistati chiaramente fatemi sapere poi come trova un come vi trovate vi vedo farli alcune che li fanno anche sui social eccetera grazie mille allora questo mazzo è un mazzo che ho creato perché sentivo la necessità ne vedevo anche poca ne sentivo percepivo una che mancava proprio una risposta più chiara a certi quesiti perché ma non perché altri mazzi di oracoli e tarocchi non danno i quesiti perché ci voleva un mazzo facile anche di facile comprensione per voi per chi eventualmente appunto tra quelli di voi a cui piace no fare carte mazzi di oracoli eccetera tarocchi una risposta più chiara come abbiamo come ho fatto con i messaggi da lui messaggi da lei e gli oracoli dei messaggi divini con risposte chiare senza troppo stare a studiare i significati va bene allora anche questo mazzo sarà caricato disponibile per chi lo vuole acquistare ce l'ho già quindi lo potete già ordinare o a me o quando finirò io gli stock lo potete ordinare dal sito del produttore di chi le stampa di chi le fa che vedete allora trovate tutte le informazioni sia sul mio sito web quintadimensioneletture.it o sempre sotto la descrizione di tutti i miei video di questo canale trovate sempre riferimenti social dove acquistare le mie cose eccetera allora quindi ve lo presento subito sono troppo felice veramente ci ho messo anche qua un'energia immensa ovviamente canalizzato cioè le risposte non le ho scelte io ma ho aspettato ok di ricevere di canalizzare di sentire va bene in momenti particolari allora ve lo presento subito si chiama prossimi eventi oracolo eccolo qui prossimi eventi oracolo quinta dimensione letture ovviamente sotto guardate questa è la copertina vedete c'è questa finestra mi piaceva moltissimo questa cosa c'è questa finestra no con diciamo con queste colonne così che mi dà molto l'impressione di una persona che si affaccia no e guarda fuori guarda l'orizzonte guarda l'ignoto per scoprire cosa accadrà questa è la domanda ed è proprio su questo mazzo che si va a rispondere a che cosa accadrà quindi quale sarà il prossimo evento va bene che ti può accadere o i prossimi eventi altra novità su questo mazzo ho messo direttamente le istruzioni ma non perché servono attenzione con gli oracoli di solito non servono ma è solamente un'idea un uno spunto un saluto che vi scrivo io e dove vi dico anche magari come purificarlo eccetera che è qua è proprio direttamente nella carta che è la stessa cosa di chi l'ha comprata e lo sa di quello che c'è scritto sul fogliettino allegato che vi metto io personalmente ve lo firmo anche questo non è firmato ovviamente non ve lo posso firmare però insomma se volete le istruzioni comunque stampate da me eccetera con la firma io ve lo faccio e me lo dite quando la acquistate però diciamo che tutto quello che era riportato lì è riportato qui quindi lo potrete vedere ora tolta questa andiamo a illustrare il mazzo quindi abbiamo detto qui anzi le metto di qua qui abbiamo le istruzioni e procediamo con leggere le nostre risposte quindi cosa accadrà va bene anche queste sono di una scorrevolezza guardate guardate qua come scorrono queste carte guardate è una cosa fantastica liscissima proprio cioè scorrono via ti scappano via proprio allora adesso andiamo cominciamo con la carta 1 allora pronti la prima carta quindi ci saranno quindi degli eventi quindi gli eventi sono questi cambio di lavoro nuovo lavoro o cambio di mansione risposta negativa se hai pensato a qualcosa o qualcuno la risposta è no quindi qualsiasi cosa è risposta positiva se hai pensato a qualcosa o qualcuno la risposta è sì vedete i caratteri belli grandi nessun evento significativo per il momento nulla di nuovo aumento di energia le tue energie aumenteranno connessioni profonde profonda ispirazione lavoro personale grande crescita guardate bene questa carta perché sarà protagonista molto spesso di un altro lavoro che farò io poi vi presenterò è vedete che bella questa donna in questa posizione ok molto meditativa yoga profonda con le radici come dico spesso io le braccia che sono i rami al cielo e le radici per terra stupenda e questo è bianco e nero acquisto importante quindi questo anche un altro sono tutti eventi e comprerai qualcosa di significativo e di valore un nuovo amore inizio di una nuova relazione un calo di energia energia in diminuzione riprendi le forze persona dal passato qualcuno che non ti aspettavi ti contatterà scoprirai qualcosa qualcosa che non sapevi o sospettavi qualsiasi ambito ok in alcune carte ho scritto anche qual è l'ambito quindi qualsiasi è qualsiasi cosa qualsiasi ambito avrai le risposte riceverai risposte per qualcosa che hai chiesto da persona fisica o essere di luce chiusure benefiche e positive qualsiasi ambito rinnovamenti importanti quindi qui andiamo ad abbracciare tutta la tua vita va bene su qualsiasi ambito ci saranno delle chiusure che però sono positive inizio di qualcosa di nuovo qualsiasi ambito amore lavoro o extra ovviamente qualsiasi cosa un invito romantico tempo d'amore in arrivo vincita al gioco farai una vincita ma gioca con moderazione rimborso o risarcimento il denaro che aspettavi è in arrivo qui parliamo proprio di rimborsi e risarcimenti non soldi per terra spese impreviste uscite di denaro che non ti aspettavi quindi può capitare no quando diciamo quando andremo a fare le carte vediamo cosa sta per accaderti potrebbero accadere una di queste cose dei festeggiamenti qualcosa da festeggiare qualsiasi ambito potrebbe essere lavoro famiglia insomma diciamo anche l'amore la casa tutto quanto qualcuno verrà a trovarti riceverai una visita in casa quindi qui c'è proprio la visita di qualcuno un ritorno d'amore tutto si chiarirà e tornerete insieme la fine di un brutto periodo il peggio è passato poi faremo la stesa e vi faccio scegliere sorpresa tutto può accadere quindi qua può accadere qualsiasi cosa quando sarà pescata questa carta invito di famiglia incontrerai i tuoi parenti come allora la differenza di quello di prima è sempre l'invito ok quando c'era la visita eccetera qui c'è un incontro proprio un invito però solo famiglia firma importante convocazione per una firma qualsiasi ambito qui qualsiasi cosa è trasloco cambio di casa preparativi viaggio spostamento farai un viaggio oppure uno spostamento veloce quindi qui parliamo sia di viaggi lunghi ma anche di brevi tappe che farai riconciliazione farai la pace con qualcuno amore famiglia lavoro attenzione non è solo amore qui con qualcuno con qualcuno della tua vita che di qualsiasi ambito sia sul lavoro che la famiglia un amore una riconciliazione quindi un fare pace qui abbiamo un incontro intimo forte energia e passione sessuale con qualcuno quindi se ti scappa questa carta insomma è regalo in arrivo qualcuno ti farà un dono e qua c'abbiamo un regalino un colloquio di lavoro o riceverai una comunicazione per presentarti quindi qui diverso è o fai un colloquio o c'è proprio la chiamata per un colloquio qualcosa ritornerà a te se hai perso o prestato qualcosa ritornerà indietro ecco cosa molto importante che spesso le cose non si vedono più spariscono gravidanza notizie riguardo una gravidanza puoi essere tu o qualcuno che conosci aiuto da qualcuno offerta d'aiuto qualsiasi ambito inizio o raggiungimento di un percorso di studi scuola corsi extra quindi qui parliamo di tutto qualsiasi cosa anche un corso di ballo è cioè comunque si raggiunge o si inizia quindi qualcosa di nuovo magari dovevi iniziare quel corso fare quella cosa quella palestra quello quel corso online qualsiasi cosa oppure proprio il raggiungimento cioè lo finisci prendi il tuo riconoscimento testato eccetera complimenti tesseranno le tue lodi riconoscimenti qua ci abbiamo anche qualche premiazione qualcosa ok ti convocheranno o comunque sia nel posto di lavoro o fuori extra lavoro riconoscimenti insomma il tuo valore sarà proprio apprezzato vendita importante un bel giro d'affari di denaro quindi qui si vende qui vendi qualcosa un bel giro d'affari sogni premonitori questa è l'altra carta come quell'altra della donna in bianco e nero è contatti con altre dimensioni e sincronicità perfette queste sono un po le due carte cardine di questo mazzo quindi molto molto profonda quella partecipazione ad un evento qualsiasi ambito pubblico lavoro o famiglia quindi qua c'è proprio un evento che potrebbe essere sia anche familiare quindi una un invito proprio una partecipazione no potrebbe essere sul lavoro o proprio pubblico cioè ti vieni chiamata o chiamato proprio in qualche ambiente va bene dove ci sono anche persone ambienti che ne so comunali riconosciuti enti ste robe qua pure chiarimento chiarirei con qualcuno qualsiasi ambito amore lavoro o extra quindi qui si chiarisce proprio è in assoluto un nuovo contratto qualsiasi ambito casa lavoro o extra anche qui un nuovo contratto proprio per te dichiarazione d'amore qualcuno ti dirà che ti ama qui ci si va proprio a chiarire qualcuno te lo dirà l'ultima offerta di pace qualcuno vuole fare la pace e appianare i rapporti va bene questo è proprio bellissimo un'offerta di pace proprio allora ora tolta la carta delle istruzioni ti faccio scegliere anzi no facciamo prima così rifaccio rivedere a tutti quali erano anche gli altri oracoli per chi guarderà il video cumulativo gli oracoli quindi messaggi divini quindi i prossimi eventi oracolo si vanno ad aggiungere proprio a questi altri tre mazzi che sono i messaggi divini dove ci sono messaggi delle altre dimensioni canalizzati sempre ma sono tutti canalizzati e anche questi i messaggi da lui bene messaggi dell'energia per quanto riguarda l'energia maschile e poi abbiamo i messaggi da lei sempre canalizzati i messaggi dell'energia femminile eccoli qua ok quindi questi sono tutti i mazzi chi li vuole ricordo legga diciamo la descrizione di questo video o comunque li vado a vedere sul mio sito web quintadimensioneletture.it energia femminile energia maschile messaggi divini e i prossimi eventi e adesso andiamo scegli un testimone che ti sto per far vedere adesso e poi facciamo gli oracoli primo testimone scegli la farfallina azzurra il secondo testimone la farfallina rossa allora il terzo testimone la farfallina gialla quindi stesa 1 il primo messaggio per te è della farfallina azzurra secondo la farfallina rossa il terzo la farfallina gialla va bene e poi tiriamo giù un evento cosa sta per capitarti quindi lo faremo e faremo questi oracoli ma anche gli altri tutti nei miei interattivi insomma proprio quando chiederò cosa sta per accaderti quali saranno i prossimi eventi perché sono domande molto richieste e molto interessanti comunque no per i prossimi eventi al di là mamma non mamma eccetera eccetera no proprio gli eventi come si vanno a muovere le energie no vedete che si parla anche di energie in questo mazzo ho cercato di farlo abbastanza completo allora se hai scelto io procedo con la prima farfallina eccola qua abbiamo detto la seconda rossa e la terza gialla allora e vediamo quindi vediamo un evento faccio vedere sempre da notare molto la scorrevolezza è proprio lisci molto scorrevoli allora perché ha scelto la stesa 1 farfallina azzurra gli eventi quali sono qua che possono accadere una firma importante per te farfallina azzurra qui c'è una firma con vocazione per una firma qualsiasi ambito quindi qui vedi è casa potrebbe essere anche che insomma qualche divorzio separazione matrimoni queste cose qua però è molto importante oppure hai una causa legale anche di altre cose non solo d'amore di case ci sono anche cose proprio magari che t'hanno dato anche un po fastidio è che t'hanno fatto insomma così cose anche serie importanti veramente ma non perché le case o i matrimoni non sono seri però magari anche cose meno piacevoli insomma un po così è quindi qui c'è una convocazione o firmi proprio o hai proprio la chiamata va bene quindi ti chiameranno per dirti che c'è una firma da fare importante l'ho scritto apposta importante vuol dire che per te per la tua vita questo evento questa firma significa moltissimo ok quindi qua per te che ha scelto la 1 la farfallina azzurra c'è una firma a venire chiaramente sapete che da quando guardo io dopo ognuno non sarà giusta come vuole per quanto mi riguarda quello che dico e che viene fuori ve lo dico dopo anni di esperienza dura diciamo un paio di mesi massimo ma poi mi dicono tutti che accade prima addirittura dei due mesi quindi comunque ecco se non dovesse accadere abbiamo un tempo massimo di tre mesi quindi 30 60 90 giorni ma insomma non mi ricordo che sia successo però ok questo proprio perché io lavoro molto con le energie quindi sento proprio il cambiamento quando si va a muovere eccetera eccetera allora farfallina 1 questo è il messaggio per te se ti piacciono questi oracoli acquistali trova insomma le informazioni lasciami un like al video iscriviti al canale io vado avanti con l'altra la numero 2 abbiamo detto la rossa per la numero 2 andiamo un po a vedere per te l'evento di chi ha scelto la stesa 2 farfallina rossa che evento c'è a breve centro massimo due mesi che evento c'è che evento c'è qui vediamo l'evento per chi ha scelto la 2 è una firma importante convocazione per una firma qualsiasi ambito qua dovete firmare ragazzi io non spoilerò mai ma me era uscita prima perciò cioè voglio dire non è che ve le faccio davanti agli occhi e quindi cioè allora questo ho capito che è un periodo di firme va bene spero siano per voi la soluzione di tante cose così vi auguro pure tante cose belle tra l'altro e tanta buona energia perché si vede che qui tanta gente ora che conclude è ora che se la finisce diciamo con cose che stanno procrastinando che vi stanno facendo anche tenere magari lontani no dalla vostra energia perché perché ve le portano alle lunghe perché non se ne può più sono cose terza di terza dimensione che sfiniscono perciò vi auguro veramente che queste firme insomma perché vedo che che è un periodo importante questo che sia proprio la risoluzione per tutto è farfallina rossa una firma importante quindi qualsiasi ambito qualsiasi sia la tua cosa che ti interessa matrimoni divorzi separazioni causo legali già da anni che vanno avanti e non si conclude mai con sta casa e non si vende quello insomma qui è una firma importante oppure proprio la convocazione per una firma quindi se non vai proprio ancora a firmare questi due mesi entro due mesi comunque ti chiamano e ti dicono di questa cosa va bene quindi questo è l'evento per te farfallina rossa andiamo avanti con la gialla e vediamo l'evento perché ha scelto la stesa 3 cos'è che sta per accadere un evento importante che deve accadere qua stesa 3 chi ha scelto la farfallina gialla cos'è vediamo un po' l'evento per te è un ritorno d'amore tutto si chiarirà e tornerete insieme quindi chi ha scelto la terza stesa più chiaro di così l'ho fatto io ho fatto le carte come me ci avete fatto cioè come sono io chiare limpida a grandi lettere perciò ritorno d'amore senza tante spiegazioni qua abbiamo un rimettersi insieme con un qualcuno che ti interessa tutto si chiarirà e tornerete insieme perciò qua un'ottima energia in arrivo per te per quanto riguarda il cuore e l'amore ok ma anche perché perché c'è il chiarimento qua è sottointeso anche il chiarimento sembrano poche parole ma in realtà se non le volesse spiegare ce ne sta eh perché il chiarimento è come fosse il sole va bene infatti c'è anche il giallo qui la farfallina gialla ritorno chiarimento va bene perciò c'è questa chiarezza che sarà fatta che è determinante e importante nei rapporti quindi si chiarirà se c'erano delle cose che ti facevano venire mal di stomaco cose che ti facevano stare triste insomma preoccupata o preoccupato qui avremo proprio la schiarita ok com'è da colore giallo perciò benissimo stessa tre per questo ritorno per te grazie mille lasciami un like al video iscriviti al canale io vi faccio allora quindi per quanto riguarda i miei oracoli vi li rimetto qua così per chi così abbiamo anche la panoramica completa e dopo andremo ad aggiungere eventualmente ma non adesso non subito perché io le cose le faccio per bene e non ho fretta proprio di niente perciò questi sono intanto quelli usciti da me quinta dimensione letture canalizzati sono questi spero vi torniate bene fatemi sapere scrivetemi eventualmente e visitate appunto il mio sito web poi dopo sapete che nei social chi mi segue lo vede che ogni tanto metto dimostrazioni metto piccoli interattivi shorts quelli corti no e queste cose qua proprio per un impatto più veloce faccio la presentazione ve le faccio vedere eccetera eccetera va bene io come sempre sapete che vi voglio bene vi ringrazio del vostro affetto di seguirmi sempre così in tanti ma soprattutto anche in privato sono molto contenta al di là di quello che si vede su youtube ma le soddisfazioni più grandi veramente le ho poi a di persona a persona quando quando parliamo è molto bello questo perché è tutto molto vero e molto di luce bellissimo allora grazie ancora di essere stati qua con me su questa dimensione letture spero vi siano piaciuti questi oracoli fatemi sapere vi mando un grandissimo abbraccio e a presto ciao a tutti